Musica Ben trovati con il TgLIS di Telebari. Il Teatro Petruzzelli di Bari con i teatri alla scala di Milano, Finice di Venezia e Reggio di Parma, riconosciuto come monumento nazionale. La Commissione Cultura della Camera ha infatti approvato un emendamento firmato dal capogruppo di Forza Italia Rita dalla Chiesa con la proposta di legge per la dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani al fine di garantire a questi storici contenitori culturali un riconoscimento che ne valorizzi il prestigio, la storia, le attività. Il via libera definitivo arriverà con l'approvazione della legge da parte della Camera e del Senato. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'astenzione dei consiglieri della Lega, la Puglia Domani e del consigliere Napoleone Cera, la proposta di legge per creare le condizioni affinché la gestione del servizio idrico resti nelle mani di Acquedotto pugliese e quindi pubblica anche dopo il 2025 quando scadrà l'affido. Una direttiva europea infatti impone che la gestione del servizio idrico venga messa a gara. In questo modo ci sarebbe il rischio che dal 2026 finisca in mani di privati. E adesso le altre notizie del TG Lease. E' stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione Mario Lerario, ex dirigente della protezione civile pugliese, accusato di corruzione insieme all'imprenditore Antonio Illuzzi, al quale è stata inflitta la pena di 4 anni. I due sono stati giudicati con rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari. La pubblica accusa aveva chiesto 6 anni per l'erario e 4 per Illuzzi. Il giudice ha rinviato a giudizio Antonio Mercurio, ex funzionario della Regione, che risponde insieme all'erario di abuso d'ufficio. Il processo a carico di Mercurio, che sarà giudicato con rito ordinario, comincerà il 3 luglio dinanzi alla seconda sezione collegiale del Tribunale di Bari. Per la Procura, Illuzzi avrebbe pagato all'erario in due diversi momenti tangenti per 35 mila euro per ottenere l'affidamento tra il 2019 e il 2021 di appalti della sezione provveditorato economato della Regione Puglia da oltre 2,2 milioni di euro. Stretta sull'abbandono dei rifiuti a Bari, il personale dell'AMIU insieme agli agenti della Polizia Locale di Bari ha passato al setaccio diverse zone del quarto municipio, dove a fine gennaio è partito il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Sono stati individuati luoghi dove ripetutamente vengono abbandonati i rifiuti da parte delle utenze. Gli operatori hanno aperto i sacchetti nel tentativo di verificare l'eventuale presenza di indizi, così da sarile ai responsabili. Gli ambulatori di endocrinologia e diabetologia pediatrica del Giovanni XXIII di Bari sono stati accorpati per assicurare migliore assistenza e maggiore copertura dei servizi per il primo accesso e la presa in carico dei pazienti. A renderlo noto è il Policlinico di Bari che in una nota spiega in questo modo i tre medici specialisti in pediatria e i tre medici della pediatria opereranno unitariamente, assicurando così l'apertura degli ambulatori per un numero maggiore di ore e di giorni, anche di pomeriggio durante tutto l'anno. C'è anche Bari tra le 19 città italiane in cui in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, sarà possibile consultare una psicologa per avere una diagnosi corretta e consigli rapidi ed efficaci. L'iniziativa è organizzata da Food for Mind, la più importante rete per la cura dei disturbi alimentari d'Italia, che ha esteso i consulti gratuiti in tutto il mese di marzo. Con i suoi 118 mila occupati Bari è la città tra i comuni più grandi, con il tasso di occupazione più elevato del mezzogiorno, 57,7%, e quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat che collocano il capoluogo pugliese, al nono posto per occupazione tra le grandi città italiane. Ottimo anche il dato dell'occupazione femminile, che è aumentata di 36 mila unità dal 2019 ad oggi. In questi ultimi quattro anni abbiamo potuto sperimentare la resilienza delle piccole e medie imprese della Regione Puglia, commenta il Presidente della Commissione regionale sviluppo economico, Francesco Paolicelli. In tutto il territorio dichiara ancora c'è un gran desiderio di crescita e di sviluppo che stiamo cercando di intercettare coniugando le politiche industriali con i bisogni delle imprese, l'innovazione, il talento delle nuove generazioni. E con il Tigilis è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.